no oggi 21 marzo entra la primavera c'è un bel sole che bacia un po tutta italia e speriamo di cominciare ad avere presto delle buone notizie e mentre noi continuiamo a fare tutti il nostro dovere seguire le indicazioni che ci vengono date io vorrei rispondere a tutti relativamente ad una domanda che mi stanno ponendo in questi giorni è caso di chiudere con leota di chiudere il rapporto con leota la mia risposta è no potrebbe essere un errore un errore importante nel breve periodo nel medio periodo e per alcuni potrebbe anche avere un effetto devastante non lo farei manterrei allineato la mia politica commerciale tariffaria così come sempre stato consapevole che in questo momento c'è chi si comporta in maniera etica e chi si comporta in maniera meno etica però questa purtroppo una realtà qui dobbiamo imparare a convivere sempre siamo adulti e lo sappiamo non chiudere i rapporti con leota potrebbe essere molto pericoloso per la salute del nostro albergo grazie e buona giornata a tutti